Ciao a tutti i pixelini, oggi guarderemo un po' di cinesate, prodotti cinesi simpaticissimi e molti sono anche utilissimi. Iniziamo con il lampadaglio, ovvero questa lampadina che per i cinesi, questa per auto, la useranno come lampadaglio in casa. I famosissimi lacci per clape, cosa sono le clape? Forse sono le crape cinesi per allacciarsi la testa, non lo so, a parte che uno a me sembra già usato. Oh, questo braccialetto per chi è un po' sovrappeso, è un braccialetto speciale magnetico, utilizza dei campi magnetici super intrinsechi, bracciale energetico da donna. Infatti questa è una donna, titanio biosano per terapia magnetica. Praticamente vi mettete questo braccialetto e in una settimana diventate da così a così. Oh, il tiraporchi, il tiraporchi consigliato per Nicola quando è l'ora di tirare un porco. Prendete questo tiraporchi e potete tirare dei piccoli porcellini ed è anche utilizzabile per tirare un altro tipo di porchi. Riorganizza lo spzaio, lo spzaio. Un bucchiere birra. Bucchiere. Ma deve essere una parola tipo napoletana? Ma l'asciuga cappelle. Dopo che hai fatto la doccia ti devi asciugare, no? Anche sarà tipo un phon piccolino. C'è quello per i cappelli e quello piccolino per le cappelle. Pasta alla anatriciana. Non so se si parla di ano o di anatra. Comunque, vabbè, si potrebbe anche assaggiare. Ho un bel miscuglio tra la principessa di Frozen e un Transformers. E infatti dice Machine Armor Deformed. Un po' deformata forse lo è. C'è una action figure di Thor in Vespa Rosa. Un vero supereroe. Spazzola per pulizia feccia. Se nel vostro quartiere c'è feccia, usate questa spazzola e spazzolatevi a tutta la feccia. Poi, che dire che il vostro videogioco che vi accompagna fin da piccoli, Super Mariano. Pistola ingollatrice. Questa pistola non incolla, ma ingolla. Ok? Se dovete fare un po' di manicure, vi consiglio questo set speciale con pinza a cacciavite e taglierino. Luce per biciletta. L'angelo scuro di luce per illuminare la vostra. Sembra una cosa un po' angelo scuro. Un po' epica per biciletta. Oh, guardate che questo scontrino... Cosa ha comprato sto tipo? Un collare per anima. Queste bellissime calamite da attaccare sul frigo. Ad esempio, se lo sportello non sta troppo insieme, vi attaccate queste calamite. Ho delle bellissime scarpe da ginnastica marca FICA. Poi, proseguiamo con i ciabatti da Uoma. Quindi, penso che siano un po' unisex sia per uomo che per donna. Uoma. Il gioco per cane. Se avete un cagnolino, mi raccomando, fatelo giocare con questo bellissimo gioco per cane. Il mio cane gioca sempre con questi speciali giocattolini. Questo è invece il gelato al paracetamolo. All'attacchipirina. Io sono andato in questa gelateria, ho preso il gusto puffo. Invece, non era puffo, era viagra. Ho avuto qualche problema per un paio di giorni, ma vabbè. Giustamente, un set di cacciavitini ci dice Fai attenzione, è fatto in Cina. Ho questa bellissima action figure di Adventure Man. È un duro. Mi dicono tutti che è un vero duro. Chiave inglese. Giusto. Una chiave inglese. Forse è tipo una specie di toscano cinese. La pellicolla. Ovvero, la pellicola che si incolla. Giusto? Beh, direi che... Giusto come cosa, no? La pompa di benzina... Non inserire in bocca o nel retto. Direi. Questo servizio Sushi Takeaway, insomma, ti portano il mangiare a casa. Il sito si chiama Melo Sushi. Battesimo è un ragazzo. Felice battesimo. La gonna... La gonna è l'amore? Ma un ragazzo si mette la gonna? Ma... Ieri volevo farmi gli asparagi con le uova. Buonissimi. Ho chiesto degli asparagi, mi hanno dato dei tasselli e me li sono mangiati. Oggi mi sa che avrò qualche problema ad andare in bagno. Tosatrice per il naso. Eh sì, tosiamoci il naso. Filtro da tennis. Ah, forse i giocatori da tennis usano questo filtro per... Non so, per far cosa. Questa è una cintura con cose multifunzione, tipo sopravvivenza. Regalo del sacchetto della cintura di immagazzinaggio della cintura di immagazzinaggio dell'organizzatore della tasca EDC della guaina di cuoio degli uomini multiutensile. Questa descrizione è chiara, direi che è proprio chiarissima. Set per calligrafia. Una bella penna, inchiostro, ricaricabile, ecologica. La calligrafia è divertente con l'erba. Se usate l'erba, chissà come vi divertite a scrivere. Pezzo di sputo chiave dell'acqua tromba con viti A. È una descrizione che, direi, è chiarissima. Oh, il set per piccole dottoresse e dottori. Ma ha il fucile a pompa, giusto, il fucile a pompa per i malati terminali. Oh, una bellissima crema al mango per le mani. Eh sì, io direi che da così metti la crema e in qualche giorno la tua mano diventa così. Bene, utilizzatela anche in altre parti del corpo. Un'etichetta su un vestito per un bambino di tre o quattro anni. Giustamente, è giusto, è giusto. La logica funziona. Rimuovi il bambino prima di lavarla. Beh, mica potrei mettere il bambino dentro nella lavatrice. Eh, insomma, sono avanti i cinesi. Lo scudo di su, iron, vabbè. Colore, blu. Cinese dal tonico. Tappetino che assistenza del scivoloso incollato. Di che ho capito cosa sono queste cose. Vediamo se qualcuno ci arriva, lo scrivi nei commenti. Il golf da toilette. Perché quando andate in bagno dovete starli con lo smartphone? Già lo usate tutto il giorno. Comprate un bellissimo golf da toilette. Tonno. Oh, sono andato al sushi ieri, ho comprato questi cosini qua. Infatti non ho dormito tutta la notte. Tonno, salmone, bazzancolla, seppia, gambero cotto. Bamba! Sottopendola. La pendola cos'è? L'orologio. Infatti tutti quelli che hanno l'orologio a pendola hanno questo sottopendola. Questo penso che sia un filtro per acquari. Una macchina per succhiare il pesce e escrementi. Acqua, pneumatico, goblin, sedimentazione, filtro. Quindi se allevate dei goblin utilizzatelo. Acquario, filtro, eccetera, eccetera. Ho l'acquario, comprerò questo filtro e ci metterò dentro i goblin. Supporto per vitello. Se avete intenzione di tenere un vitello magari in sala, prendete questo supporto e lo potete attaccare al muro. Oh, il tè che stimola la defecazione. Direi un ottimo tè. Vedete la cinesina di successo che caga. Per le donne che sono un po' stitiche. Defecation tea. Italia. Il panino. Il panino. Anch'io un po'. Il pallone con scritto Italia. Che c'entra? Come ho fatto a confondere panino con pallone? Una cartuccia per il Nintendo. La vecchia console a 8-bit di Super Maruo. Una lavanderia per supereroi. Lavanders Infinity Wash. Oh, questa maglia. Una maglia elasticazzata. Una bellissima maglia elasticazzata. Buttate via le Playstation. Prendete la GS4 Pro. Sicuramente comprenderà tipo 7200 giochi. Quindi smettetela con abbonamenti. 60 fotogrammi al secondo. GS4 Pro. Gonna per tovaglia. Perché sui nostri cavoli dobbiamo mettere la gonna per la tovaglia. Cantera. La cantera. Candela. Cantera. Etichetta adesiva con numero. Vedete quanti bei numerini adesivi? Oh, un bellissimo peluche di Sonic. La mascotte della Siga. Go Sega. 21p la scopa. Un adattatore da composito a scart. 21p la scopa. Questi glitter diamante purè di patate evidenziatore duraturo. È un glitter per la pelle. Per farsi tutti i sbrillucicosi. Però potete anche mangiarlo perché fate il purè di patate con questo. E poi fate gli stronzi sbrillucicosi e glitterosi. Questo lo volevo prendere per me ma era usaurito. Una bellissima visiera con capelli incorporati. Peccato che non l'ho trovato. Mutante. Mutante. Le mutande. Mutante. Eh sì. Direi che è proprio Parigi. Che città è? Scrivetemelo nei commenti. La spugna di schiuma per fare bambini per ballare. Il fora bucchi. Anche qua non so perché mi vengono in mente i napoletani. Fora bucchi. Ma perché non prendere una bellissima maglietta di Amazzing tarantula? E direttamente dal futuro la trattoria pizzeria fondata nel 2050. Se questo video vi è piaciuto e le reaction, le actions alle cinesate vi fanno ridere, scrivetemelo nei commenti che ne faremo un altro. Ok? Ciao ragazzi! Dov'è che si stoppa qual video la registrazione? Trovata! Yeah!